allora il problema dello script che abbiamo visto è che entrando in due ma se il secondo entra dopo e quindi quando il primo che entra che sarebbe questo entra e vedete che apre e quindi può attraversare la porta quando entro con il secondo che è questo che è entrato in un momento diverso del primo e faccio go e a questo punto succede una cosa curiosa che lui entra con la porta chiusa quindi la porta la vede chiusa la porta la vede chiusa ok silenzioso questa cosa qua il che non dovrebbe essere perché l'altro l'aveva aperta e quando vado vicino se io l'apro l'effetto che ho è che l'apro per me vede che io vedo il primo ma l'altro che era questo se si gira la vede chiusa quindi c'è una disincronizzazione fra lo stato della porta quindi lo script deve essere corretto in modo tale da consentire la sincronizzazione di questo evento e quindi il prossimo script che vi farò vedere adesso avrà delle modifiche che alcune mi sono state anche suggerite in forum su don di mia rechat e altre poi le ho fatte le prove ci sentiamo fra poco e vi faccio vedere lo script ok allora per ovviare al problema descritto prima ho modificato un po' lo script nel senso che gli ho messo intanto gli ho cambiato la capitalizzazione perché ho visto che su C sharp si tende a mettere maiuscole i vari campi quindi target l'ho messo maiuscolo e poi ho messo questo isopen che indica se la porta è aperta o meno e gli ho detto che è udon sinked che vuol dire che se io a un certo punto cambio questa variabile quindi la metto false o true tutti gli altri la vedranno quindi in pratica è una specie di messaggio come l'altro però consente di avere le informazioni sul fatto che la porta sia aperta e chiusa in più alla partenza ho cancellato il fatto di chiudere la porta perché quando parte se chiediamo la porta ovviamente non è più allineata con quello che vedono gli altri e quindi ho messo semplicemente di prendersi la posizione della porta e se era aperta, nella posizione aperta allora dico isopen a true cioè quindi se no dico false in questo modo tutto il resto risulta sostanzialmente identico salvo il fatto che se era aperta io prima cercavo la posizione ma vediamo se lo si è aperta la chiudiamo e isopen lo mettiamo false e così via quindi in questo modo quello che succede è che gli altri quando hanno il network event si trovano l'informazione dell'isopen giusta cioè quella che hanno prima e riescono a modificarla in più per fare in modo tale che tutti la vedano nella posizione giusta la partenza occorre che anche la posizione della porta sia sinked o don't sinked e questo l'ho fatto aggiungendo nella porta questo la mia porta è questa gli ho fatto add component gli ho messo un don't behavior tipo questo e gli ho messo synchronize position così sono sicuro che tutte le porte sono sincronizzate ok a questo punto non vi faccio vedere la prova ma credetici eventualmente fatela voi dovrebbe funzionare salvo una domanda ancora che ho fatto sul blog per vedere se hanno dei suggerimenti perché ho il dubbio che qualche volta possa non funzionare quindi conclusione ritornando al problema per avere un oggetto visibile da tutti nello stesso modo occorre fare tutta questa serie di piccole attenzioni quindi avere l'oggetto sincronizzato qua e poi quando vogliamo cambiare nello stato dobbiamo accertarci di avere un'altra variabile sincronizzata che ci dica in che modo lo vogliamo vedere tipo la posizione finale in cui deve esserci o qualcosa del genere facciamo in modo tale che comunque questo flag si chiamano flag queste cose booleane che vogliono dire una roba che vale vera o falsa devo impostare la posizione del flag in modo tale da essere aderente a quello che si osserva in quel momento sulla scena e che anche altri possono avere modificato dopodiché semplicemente è molto simile a prima quindi mi domando quando viene lanciato l'evento la posizione qual era cioè se se la cosa da fare è is open is closed e lo si fa per intenderci ho aperto un un proprio un un post dove praticamente ho scritto esattamente dove intanto mi hanno risposto per per spiegarmi questa cosa che loro suggerivano lo don't think ma poi e quindi questa modifica qua ma io gli ho poi risposto che c'era questo problema e gli ho suggerito questa soluzione che adesso vado a pubblicare anche per voi ecco se voi la ripubblicate questa cosa fate attenzione che ho cambiato la capitalizzazione e quindi la porta dovete dovete di nuovo infilarla dentro cioè dovete fare il trascinamento della porta dentro il dentro lo script quindi qui una volta che lo ricompilate cambiando il nome di un oggetto da minuscolo a maiuscolo cambia questa informazione ok è tutto